Hasta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal distopico futuro ed eccoci qui oggi in un nuovo mitico episodio della serie su Dragon Ball Xenoverse 2. Eccoci qua con il nostro caro pattugliatore temporale assieme alla simpatica mascotte di Riff che ci fa sempre compagnia ragazzi ultimamente, insomma, negli ultimi episodi. E oggi ci troviamo in un posto davvero sacro, un posto bellissimo che ci darà tanta roba se tutto va bene. Ragazzi non c'è neanche bisogno che vi descriva e che vi dica in che posto siamo perché lo potete già vedere con i vostri occhi, la casa di Majin Buu. E questo può significare una cosa sola, ovvero che andremo a dare appunto il cibo ai figli di Majin Buu e a prenderci sti benedetti abiti rari. Ne sono rimasti alcuni quindi non sono infiniti questi abiti rari, fino alla fine poi finiremo tutta questa diciamo serie nella serie e appunto si concluderà il tutto perché avremo tutti gli abiti quali rari disponibili. E lì ovviamente sarò di una contentezza assurda perché dopo tutti gli sforzi finalmente avremo tutti quanti gli abiti. Per il momento ce ne mancano alcuni, non so neanche quali sono di preciso ma ovviamente quando appunto i figli di Majin Buu ci daranno degli abiti leggendo solamente il nome mi accorcerò se ce li ho o meno perché più o meno mi ricordo ragazzi tutti gli abiti che abbiamo già sbloccato e provato. Quindi se mi dà un abito che già so lo scartiamo, se mi dà un abito che non ho ancora festeggiamo e nel prossimo episodio poi proviamo tutto quanto. Io ci conto davvero anche oggi di sbloccare due abiti, è il minimo ragazzi e quindi oggi speriamo di trovare questi penultimi abiti rari che ci possono dare i figli di Majin Buu. Speriamo bene ragazzi, noi daremo il cibo quello appunto più proteico diciamo così, quello di livello 3 più buono così appunto si saziano e ci danno buona roba, bella roba e speriamo bene. Ovviamente andrò a fare un sacco di tentativi, come sempre ragazzi vi salterò le missioni parallele che usiamo per appunto schippare il tempo e lo farò più 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 e più volte come faccio sempre saltandovi le parti e vi faccio vedere appunto i momenti clou in cui ci danno gli abiti. Insomma facciamo così come sempre. Ma fermi tutti, prima di cominciare se non volete essere terminati all'istante mi raccomando ragazzi ad andarvi a recuperare se non lo avete visto lo scorso episodio di Xenoverse 2 in cui semplicemente siamo andati a fare per la primissima volta l'evento allenamento slash lezione speciale per Krilin. L'abbiamo completato, ci siamo divertiti ed è stata una roba nuova e fresca, mai fatta prima. Quindi ragazzi vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione. Perfetto, adesso ragazzi è tempo di andare quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo alla casa di Boo, entriamo da questa entrata qui stavolta, di solito entriamo sempre dall'altro lato e vediamo un po' ragazzi, abbiamo tutti questi bimbetti da sfamare quindi speriamo bene oggi. Tra l'altro dobbiamo far cambiare il colore a Niboshi se riusciamo sperando che non mi freghi come le altre volte, quindi iniziamo da lui, facciamo parla, ok, dai cibo, gli diamo appunto pesce d'acqua dolce, pitaliano, vai ragazzi, sì, perfetto, ok, non cambia di colore a quanto pare e se ne va. A Shigo parla, vediamo un po', dai cibo, gli diamo ragazzi pesce arrosto, vai, sì, ok, non cambia di colore, non dà problemi, passiamo al prossimo. Sanma parla, dai cibo, subito ragazzi gli diamo ad esempio il latte che abbiamo sbloccato, vado, sì, ok, vediamo se non cambia di colore, non dà problemi, anche lui. Quindi bravissimi oggi figli di Majin Buu, facciamo appunto parla con Ikigo, dai cibo, gli diamo ragazzi, vediamo, latte, anche a lui, sì, abbiamo Sugoroku, pesce arrosto, sì, ok, non dà problemi neanche lui e rimane il bimbo Monello Builon che sta sempre qui a correre a consumare energie. Dai cibo, pesce d'acqua dolce più italiano, sì, ok, qua devo fare calma, spero, sì, calma, devo fare, spero che sia questo il tasto giusto, sì, ok, mi ricordo bene ragazzi, a volte vado un po' in panico perché dico, oddio, se sbaglio il tasto cambia di nuovo il colore, che palle, invece no, sono andato bene, ok. Quindi tornano tutti per cena e noi ragazzi una sola cosa dobbiamo andare a fare, fare tre missioni parallele come di consueto, mi faccio la numero due che è molto semplice, molto veloce, me le faccio molto velocemente e una volta che ho finito mi appare il messaggio che i figli sono tornati alla casa di Majin Buu, quindi come sempre. Oh, perfetto ragazzi, benissimo, è apparsa la scritta, questo significa che andiamo subitissimo con il teletrasporto a casa di Majin Buu. E rieccoci qua ragazzi, saremo fortunati oggi, chi lo sa, iniziamo da Niboshi che ce lo togliamo subito davanti, allora vabbè, Buti mangerà, no, questo non succederà mai, comunque è una super anima, va bene, poi trasformeremo anche appunto Niboshi, lo faremo diventare giallo ragazzi, andiamo da Sanma, speriamo di essere fortunati ragazzi a primo colpo, chissà, non si può mai sapere, parla, vediamo un po' che ci dà, allora, G-Demone, ok, questo potremmo averlo avuto in passato comunque, di solito ragazzi, anche se magari questi qui sono abiti rari, non mi interessano più di tanto perché sono quelli lì personalizzabili, diciamo mi danno un po' di scadente, ecco, mi danno di abiti scadenti, personalizzabili, che non se li caga nessuno questi, ok, quindi lasciamo perdere, magari anche se sono rari non ci interessa. Ikigo, vediamo un po' ragazzi, ok, tuta d'addestramento Demone, ok, questa forse già ce l'avevamo, non me lo ricordo, ma comunque non mi interessa, intanto ce la collezioniamo, ce l'abbiamo comunque, Sugoroku, vediamo, G-Demone, anche lui ragazzi è G-Demone, non è che mi aspettavo per forza che andasse tutto liscio subito, comunque, parla, vediamo, abiti di Hub, questi ce li abbiamo già ragazzi, anche se sono rari, li abbiamo già provati tempo fa, quindi li abbiamo già sbloccati questi, vediamo un attimino di fermare Builon, ok, abiti di Darbula, già ce li abbiamo ragazzi, comunque siamo andati diciamo piuttosto bene come primo impatto, purtroppo che ce li abbiamo già questi, quindi dobbiamo assolutamente riprovarci. Adesso do da mangiare di nuovo a questi piccoletti e poi ragazzi vado a fare le tre missioni parallele e così via, facciamo sempre così fin quando non escono gli abiti che voglio, quelli rari che ancora non ho. Ok ragazzi, sto per far cambiare finalmente il colore a Nibosh e poi spero di non sbagliarmi mai più con nessuno dei figli di Majin Buu, così appunto non cambiano nuovamente, diventano blu, diventano rossi e poi devo ritrasformarli appunto in gialli, quindi vediamo un po'. Ok, si è trasformato, quindi anche lui adesso sei su sei, avremo sei abiti su sei, insomma, quando veniamo a ricevere i doni sono solamente abiti, quindi perfetto. Bene ragazzi, eccoci qua, benissimo, abbiamo tutti e sei i figli di Majin Buu di colore giallo, credo per la primissima volta, o forse ce li avevo già e ho sbagliato qualche volta, quindi li ho fatti cambiare di colore e poi li ho ritrasformati, adesso non mi ricordo, comunque è bello averli tutti gialli. Quindi iniziamo da Niboshi, vediamo un po' ragazzi se ci dà un abito interessante. Oh mio Dio ragazzi, nooo ragazzi qua esplodo per quanto cavolo li ho cercati e ci siamo al secondo tentativo di oggi, gli abiti di Super Baby 2, sì ragazzi ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta e siamo solamente al primo figlio Majin. Non so che dire ragazzi, rimango a bocca aperta, porca puttana, abiti di Super Baby 2 mai avuti prima e so che sono rarissimi questi, cioè super rari a livelli estremi. Ok, ok, poi li proveremo ragazzi, quindi andiamo a parlare anche con gli altri, dai che ci potrebbero essere altre sorprese, dai vediamo. Attenzione ragazzi, abiti di Mr. Popo, ma che succede ragazzi oggi? Che cavolo succede? Non li abbiamo mai avuti questi di Mr. Popo, sono anche questi rarissimi e sono già due, quindi già potremmo concludere qua, però ormai gli abbiamo dato il cibo e ci hanno portato gli abiti, quindi assurdo ragazzi. Benissimo, vediamo un po', quindi già due abiti per il prossimo episodio ce li abbiamo, vediamo. Ok, non ci posso credere ragazzi, non ci posso credere, terzo abito nuovo raro di oggi, abiti dello stregone del toro, tutto quanto, tutto quanto il set, queste non ce le avevamo neanche, quindi nei prossimi episodi abbiamo abiti a bizzeffe da provare, neanche queste avevamo, anche queste sono super rari. Quindi abiti dello stregone del toro, cioè, ma uno dietro l'altro, ma che sta succedendo ragazzi oggi di preciso? Eppure ho dato sempre lo stesso cibo oggi, eh, vediamo con Ikigo. Sono spaventato ragazzi, abiti di Darbula, ok, ce li abbiamo già, ma comunque sono super rari, quindi comunque il fatto che ce li abbia dati è comunque importante. Ok, parla, ok, abiti di Riff con il colletto ce li abbiamo già ragazzi, ma sono veramente estasiato, sono veramente troppo troppo contento. Ok, buillon, abiti dello stregone del toro, quindi ragazzi addirittura doppioni, già subito, quindi mamma mia ragazzi, praticamente oggi il video non so quanto si è durato, probabilmente pochissimo, però mamma mia ragazzi, adesso vado un attimino a controllare senza farvi vedere, quindi vado a controllare per cavoli miei, vedo un po' gli abiti, un attimino se si sono sbloccati, insomma, se ci sono, se sono nuovi, e poi appunto noi li proviamo nel prossimo episodio, quindi vado. Ok ragazzi, ho appena controllato e non avete idea della gioia che sto provando in questo momento, solo andando a vedere in cambio equipaggiamento, negli abiti disponibili, i nuovi abiti, quindi io ho già dato un'occhiata, mi sono reso conto, sì, ci sono con la stellina, diciamo che indica che sono abiti nuovi, quindi sia per quelli dello stregone del toro, sia per quelli di Popo e sia per quelli di, appunto, Super Baby Vegeta 2, quindi tanta roba ragazzi, sì, finalmente ce l'abbiamo fatta e qua godiamo tutti quanti, sia io che voi, io non so se voi li avevate già, probabilmente li avevate già questi abiti, ma io ce l'ho messa tutta ragazzi, episodio dopo episodio, ci ho creduto sempre e alla fine ce l'abbiamo fatta, porca miseria, che bello, e non vedo l'ora poi prossimamente di andare a provare sti cavolo di abiti e sapere di averli sbloccati, averli lì, insomma, nel menu cambio equipaggiamento, negli abiti e sapere di poterli usare in qualsiasi momento, non più venire qua per andarli a sbloccare, ovvio che se malauguratamente li vendo per sbaglio, faccio una cagata assurda perché dovrei venire nuovamente qui, appunto, per sbloccarli e fare tutto sto macello e magari non escono subito, ma io davvero ragazzi, un attimino, ma che diavolo è successo, come mai si sono sbloccati uno dietro l'altro, io ho dato lo stesso cibo, non ho cambiato anche perché i due cibi a livello 3 che ho sono quelli, il pesce arrosto e il pesce d'acqua dolce pitaliano, non ho cambiato nulla, sono tutti e sei, appunto, di colore giallo e magari questa cosa ha influito perché essendo tutti quanti di colore giallo, magari si sblocca un qualcosa di particolare che noi non vediamo, che appunto permette di sbloccare questi abiti super rari molto più velocemente, ecco, molto più facilmente anche, quindi, che dire, sono esterrefatto ragazzi, allibito, non pensavo che oggi ci avremmo messo così poco, già al secondo tentativo, ma pensavo che ci avremmo messo tipo 10 tentativi, molto di più della scorsa volta eppure ragazzi ce l'abbiamo fatta, questo è il tutto, quindi non so se l'avventura, questa miniserie nella serie finisce qua, non lo so, perché comunque tre abiti nuovi li abbiamo sbloccati e tre completi e non so effettivamente se ce ne sono degli altri, poi dovrò controllare, nel caso ragazzi questo qui è un arrivederci per quanto riguarda questa miniserie nella serie, perché se per caso appunto vedo che non ci sono appunto altri abiti da sbloccare e allora vuol dire che abbiamo concluso tutto, gli altri abiti già li conosciamo e quindi finisce l'avventura. Quindi grazie a tutti voi, grazie Kigo, grazie Sanma, grazie Ashigo, grazie Sugoroku, grazie Builon, grazie Niboshi e soprattutto ragazzi, grazie a Papa Majinbu che ha permesso la nascita di tutti questi Majin che ci hanno permesso poi di sbloccare questi abiti fenomenali, quindi salutati tutti, ce ne possiamo andare, addio, raggiungi, ok usciamo fuori ragazzi e adesso finalmente diciamo che siamo liberi, ok benissimo, ovviamente magari in futuro ci verremo di nuovo, chissà che non penso che con qualche DLC possano mettere qualche abito da sbloccare ulteriormente, qui però ci potrebbe essere anche qualche abito che ci è sfuggito, ecco perché ho detto è un arrivederci, non è detto che sia un addio perché non si sa mai, scopro che appunto ci sono altri abiti che magari ancora non ho sbloccato, magari con qualche ricerca online e appunto da lì devo riaprire questa miniserie e andare a beccare questi nuovi abiti. Comunque ragazzi oggi è stato davvero miticissimo a livelli estremi, forse il più bel episodio di questa miniserie, io non so se voi l'avevate capito ma stavo aspettando proprio che uscissero gli abiti di Super Baby Vegeta 2, proprio quelli sono i più rari, più fichi in assoluto e gli altri sì ovviamente dovevano anche uscire, quindi stavo aspettando che uscissi un bel po' di roba ancora e quando ho visto gli abiti di Super Baby Vegeta 2 sul primo Majin, sul primo figlio di Majin ho detto oh cazzo qua abbiamo sbancato, cioè mamma mia ragazzi non me l'aspettavo totalmente, pensavo fosse molto molto più difficile, non so che cavolo è successo, sarà stata la magia dell'unione di questi sei figli di Majin Buu di colore giallo e l'unione fa la forza e qualche tipo di magia mistica ragazzi secondo me avrà fatto questo miracolo perché di un miracolo si tratta, non so com'è accaduto, non so che cavolo è successo, io sono su PS4 quindi non ho usato delle mod, non ho usato nulla di particolare, semplicemente avrà dato una spinta in più il discorso che erano tutti i sei di colore giallo, questo penso perché prima non apparivano così facilmente questi abiti qua, anzi non erano mai apparsi, se no me ne sarei accorto li avrei già avuti gli abiti, invece no è la primissima volta infatti c'era la stellina che indicava che tutti questi abiti, tutti questi completi erano assolutamente nuovi. E quindi ragazzi che dire oggi episodio davvero straordinario, strepitoso, è stato davvero bellissimo anche se probabilmente è durato meno degli altri e quindi sarà durato poco perché il tempo un attimino di andare appunto a dargli da mangiare, poi ho fatto le missioni, ho saltato tutto, sono tornato qui, abbiamo preso i doni un paio di volte, quindi non credo sia durato tantissimo, comunque sia l'importante ragazzi che ce l'abbiamo fatta a fare la nostra cara missione, la nostra cara crociata appunto per quanto riguarda questi abiti super rari, alla fine ce l'abbiamo fatta e nei prossimi episodi vedrete appunto la prova, il test con il mio pattugliatore di questi abiti super rari e appunto vedremo le statistiche, la descrizione, come li stanno con il dorato e poi appunto penso che vorrò mettere una volta per tutte gli abiti di Super Baby Vegeta 2 che sono fighissimi ragazzi, una volta provati non so neanche come sono, una volta provati penso che mi innamorerò e li terrò lì sul pattugliatore per un bel po', quindi tanta tanta roba. A questo punto il video è giunto al termine, mi raccomando ragazzi fatemi sapere un po' che ne pensate appunto di tutto questo episodio, fatemi sapere se siete contenti che abbiamo sbloccato questi tre nuovi abiti super rari, se li avete sbloccati anche voi in passato o magari recentemente, se è stato facile, difficile, se avete notato per caso che quando i fili di Majin Buu sono gialli appunto gli abiti super rari escono più facilmente, insomma fatemi sapere tutto quello che volete, io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like, condividete, iscrivetevi se ne siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò. Grazie a tutti!